Lucia Mascino ha studiato al Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale di Pontedera. Successivamente ha collaborato col Gruppo del Teatro Settimo di Torino e ha fatto parte della Compagnia Giovani del Teatro Stabile delle Marche con Massimo Navone e Giampiero Solari. Nel 1999-2000 ha recitato fianco di Piera degli Esposti nello spettacolo La Passione di Cristo. Per la regia di Antonio Calenda. Dal 2000 al 2005 ha fatto parte della Compagnia di Giorgio Barberio Corsetti. Andando in scena in spettacoli tratti da Kafka, Ovidio e Buchner in Italia in tournée europee. Nel 2001 è stata selezionata per partecipare alla scuola di alta formazione col Sedesme 3 con J.L. Martinelli su Ceciov e ha lavorato ancora su Ceciov con il regista e pedagogo russo Antoni Lenin. Negli anni seguenti è stata diretta, tra gli altri, da Valerio Binasco e Giancarlo Cobelli. Nel 2007 ha vinto il bando Nuove Sensibilità con lo spettacolo da lei scritto e interpretato. Insieme a Rebecca Murgi, Io sono internazionale, nel 2009 recita nell'Amleto di Filippo Timi, con il quale stringe un'importante collaborazione. Seguiranno gli spettacoli prodotti dal Teatro Franco Parenti di Milano. Escritti diretti e interpretati da Filippo Timi, Favola, Romeo e Giulietta, La Sirenetta e Don Giovanni. Nel 2010 vince il premio Vittorio Mezzogiorno per il talento. Nel 2014 partecipa allo spettacolo Ritratto di una capitale e nel 2015 a Candide di Marc Ravenil. Entrambi per la regia di Fabrizio Arcuri e prodotti dal Teatro Argentina di Roma. Dal 2005 ho affiancato all'esperienza teatrale. Quella nel cinema e nella televisione. Nel 2008 recita in un altro pianeta di Stefano Tumolini in concorso alle giornate degli autori. Della mostra del cinema di Venezia e al Sundance Film Festival. Collabora in seguito con diversi registi italiani. Tra cui Renato De Maria nella prima linea. 2009, Nanni Moretti in Abemus Papam. 2011, Giuseppe Piccioni nel Rosso e il Blu. 2012, Roberto Andò in Viva la Libertà. 2013, Sabina Guzzanti la Trattativa. 2013, Alessandro Rossetto in Piccola Patria. 2013, La pelle dell'orso di Marco Segato. Prodotto da Iole Film in uscita nel 2016. La ragazza del mondo di Marco Danieli scelto alle giornate degli autori al Festival di Venezia. 2016. È protagonista femminile nei film e Fraulin. Opera prima di Caterina Carone prodotta da Tempesta Film. 2016. E di Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini prodotto da Fandango.